Grazie, è una sensazione che non lo so da che dire perché è un momento per me molto importante perché ho lavorato troppo per questa opportunità e mi sento felice. Ho aspettato il momento giusto perché il mister D'Asserto mi ha messo quando pensavo che era il meglio momento e lui mi ha detto per fare il mio ruolo che era sulla destra e io ho entrato tranquillo e ho fatto quello che so fare. Per me è molto importante, è un'etapa anche molto importante perché la prima squadra è diversa e ha migliorato tutti i miei aspetti perché quando ho arrivato qua mi hanno detto per lavorare tatticamente qui in Italia è molto importante, ho lavorato e ho avuto la mia opportunità. Ciao, per me il miglior ruolo è quello che il mister decide ma quello che mi piace di più è fare esterno destro come ha fatto oggi e mi ho sentito bene e per quello il mister anche mi ha messo là perché sai che di là faccio meglio ma gioco dove lui mi mette.